Far segnare 57 punti alla fortitudo è stata una cosa davvero incredibile perché sappiamo le potenzialità che hanno in squadra e sono contento di questa continuità che abbiamo acquisito nelle ultime partite difensivamente. Mi sembra che posso dire con quel po' di lucidità che mi è rimasta che abbiamo condotto la partita per lunghissimi tratti, solo nel finale si stava sfuggendo, bravi i ragazzi comunque a fare quel paio di bombe che poi ci hanno permesso di stare in vantaggio alla fine e devo dire che alla fine probabilmente l'abbiamo vinta con un pizzico di fortuna, che non l'ho tirato per vincere, però credo che siamo abbastanza in credito con la fortuna e quindi sono molto contento così. Poi voglio aggiungere che forse questa è la prima vera grande soddisfazione che ci prendiamo quest'anno e sono molto contento innanzitutto per la sua età, per tutti i ragazzi, tutti noi che lavoriamo, lo staff eccetera, che lavoriamo tutti i giorni veramente tantissimo. Quest'anno è stata una stagione fino ad oggi un po' avara di soddisfazione, forse abbiamo raccolto meno di quello che potevamo, invece oggi è stata una grandissima vittoria di tutti e non ultimo un pubblico incredibile perché forse un palazzetto davvero così gremito fino agli ultimissimi posti sopra non si vede spesso, quindi questa deve essere la nostra forza tutti insieme per partire dopo partita, per arrivare a quello che è l'obiettivo iniziale, la salvezza.